Presto ragazzi, presto! Su, andiamo che tutti ci aspettano! Oh, oh, i quadratini! Quanti nuovi gusti! Assaggiamoli! No, che poi non riuscite a smettere! Un quadratino, tira l'altro! Li mangi in un boccone E chi ti ferma più? E chi ti ferma più? Perché fermarsi? Sono buoni, leggeri e naturali da sempre Senza OGM e senza grassi idrogenati Facili da chiudere! E da aprire! Lo ha anche a che bontà! Quadratini! Lo ha anche a che bontà!